buonasera a tutti questa sera parleremo di un progetto editoriale davvero interessante quello di chance edizioni salve a tutti grazie per avermi invitato qui questa sera siamo curiosi parlaci un po di questo progetto io ero sana condividiamo l'amore per la scrittura dopo alcune esperienze non del tutto soddisfacenti e la difficoltà di trovare opportunità dove poter coltivare questa passione abbiamo deciso di creare un percorso nostro è personale da dove siete partiti siamo partiti dalla voglia di esprimerci e la convinzione che condividere esperienze porti lontano qual è stato il vostro primo passo 22 pensieri è stato il nostro punto di partenza abbiamo creato una rivista multitematica online gratuita ad agosto 2016 è stato messo in rete il numero pilota e da allora siamo arrivati al trentesimo numero più di 100 persone hanno partecipato al progetto tra scrittori fotografi poeti psicologi appassionati di cinema cucina viaggi politica ambiente quindi chance edizioni nasce come evoluzione di questa esperienza 22 pensieri è un laboratorio di sperimentazioni ci aiuta a conoscere le persone e metterle in relazione tra loro molti dei nostri autori hanno mosso nella rivista i primi passi con noi che obiettivo vi siete posti quando avete creato chance volevamo creare spazi di espressione dove non c'erano costruire percorsi con cui potersi misurare e migliorare rendere più aperto un mondo che abbiamo riscontrato essere chiuso e autoreferenziale qual è la vostra linea editoriale chance edizioni fa editoria emotiva e principalmente proponiamo narrativa introspettiva ma il nostro intento è essere aperti a tutte le forme della scrittura quindi con un taglio sempre emozionale abbiamo creato collane di racconti saggi e poesia dove si possono trovare i vostri libri sul nostro sito è possibile acquistare i nostri libri inoltre abbiamo un distributore nazionale che ci rende reperibili nelle migliori catene di librerie fisiche e nei principali store online feltrinelli ips ubic abbiamo anche il nostro store su amazon infine ci sono molte librerie indipendenti dove trovare i nostri libri partecipate anche a fiere e manifestazioni editoriali nel 2018 siamo stati al salone del libro di torino e a più libri più libri di roma oltre che ad altre fiere sempre a roma poi a napoli e firenze nel 2019 vogliamo confermare questi eventi e farne anche degli altri oltre le fiere come promuovete i vostri libri organizziamo con l'autore delle presentazioni facciamo serate con musica dibattiti e letture abbiamo fatto picnic letterari reading e promuoviamo incontri con noi e i nostri autori oltre la rivista la pubblicazione e la promozione dei libri quali sono le altre attività di chance edizioni ci piace molto anche realizzare workshop e laboratori abbiamo creato percorsi di affiancamento alla scrittura particolari tipologie di editing ed offriamo servizi editoriali grazie ad andrea di essere stato qui con noi ed averci illustrato il progetto editoriale di chance edizioni che porta avanti con la sua compagna rossana grazie a tutti grazie a tutti